Paolo Di Grazia, Vice Direttore Generale, responsabile Global Business di Fineco. Ciao Paolo. Ciao Dario. Tra poco sarei quasi per chiedervi un po' di acqua, perché non sono artificiale da questo punto di vista. Paolo Di Grazia lavora in una banca che è digitale dalla nascita. Siete nati in qualche modo digitali. Tu rispetto al tema della rete hai una responsabilità un po' diversa, permettimi di dire. Tu sostanzialmente, dato che abbiamo usato la metafora automobilistica praticamente tutta la giornata, rispetto allo sviluppo della vostra realtà aziendale tu sei quasi il capo ingegnere. Quello che ha messo insieme l'infrastruttura sulla quale poi lavorano, lavora la vostra rete, lavorate sui clienti. La tecnologia per voi è un fattore, voi siete data driven, siete tecnologici dall'inizio ed è un fattore abilitante da subito. È così, questo hai descritto benissimo il mio ruolo fin dall'inizio nella banca, in Fineco. A dire la verità non sono mai stato un consulente e forse è stato per certi versi questo l'aspetto che ha dato più valore aggiunto. Perché osservando dall'esterno il mondo della consulenza si possono tirare delle conclusioni anche diverse da quelle che magari puoi tirare e stanno dentro. E questo ha portato tantissime, prima di tutto ho imparato tantissimo in questi 25 anni, ho imparato tantissimo dalla vicinanza al mondo della consulenza. E ho capito quasi subito, devo dire, che il grande valore della tecnologia non era tanto la tecnologia rivolta al cliente finale, ma la tecnologia offerta ai consulenti finanziari. Questo è il vero fattore abilitante. Sei abituato a guardare lontano, naturalmente, perché tutti conoscono la storia di Fineco e sanno come è partita, sanno come evolve. Però forse la domanda difficile in questo caso è quanto spazio c'è per rinnovare ancora. Perché uno potrebbe dire, beh, insomma, la grande porzione di pista ormai l'abbiamo percorsa, non manca poi molto. Invece? Ma allora, io qua non voglio dare un messaggio presuntoso e mi metto dentro anch'io in questa analisi che faccio, anch'io come banca, dico, come piattaforma. C'è uno spazio enorme per rinnovare, proprio per il motivo che dicevo prima. Ci siamo forse concentrati troppo a dare il servizio al cliente finale? O meglio, adesso il servizio che ha il cliente finale è molto buono, tendenzialmente e mediamente è molto buono. Non tutti danno un servizio buono, però tendenzialmente è molto buono. Se guardiamo anche a livello europeo, quello che si vede è che ci sono delle bellissime offerte digitali per il cliente finale. che danno un'esperienza di utilizzo veramente pazzesca, veramente superiore al cliente finale. Poi però sappiamo che tecnologia senza uomo, senza consulente, almeno nel mondo degli investimenti, è uguale a zero volumi. Non è una strada percorribile. Io faccio sempre l'esempio del medico, quando si ha bisogno di qualcuno perché si ha un problema grave o leggero di salute, tu vuoi avere davanti un professionista, vuoi avere davanti qualcuno col quale dialogare. E la stessa cosa è valida e sempre di più se sono tanti soldi da investire, quando si deve investire appunto. Tu hai bisogno di dialogare con qualcuno, soprattutto nei momenti delicati, quando i mercati o vanno troppo bene, perché anche quello è un rischio, o vanno troppo male, altro rischio enorme. Quindi tutti quanti si sono dedicati al cliente finale, ma nessuno si è dedicato ancora veramente a dare la tecnologia ai consulenti. Cosa dobbiamo copiare dalle best practices europee? Non ci sono le best practices europee. Io sto studiando la Germania, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra è già un po' più avanti, ma non ci sono best practices, sono tutti concentrati sul cliente finale. Non c'è ancora nessuno che ha capito, secondo me, probabilmente velocemente lo capiranno, perché non penso di essere l'unica persona al mondo ad aver capito questa cosa qua, che il vero fattore abilitante è dedicarsi al consulente finanziario in maniera tale che abbia un'esperienza di utilizzo uguale a quella del cliente finale. E siamo ancora lontani da questo. In questo senso ti chiedo di interpretare, prima l'avevamo visti anche con te dei numeri, se la regia li ha bene, se no fa niente, la suggestione che arrivava anche da volpato, e cioè il fatto che negli Stati Uniti sostanzialmente la consulenza finanziaria abbraccia moltissime famiglie in più, negli ultimi 10-15 anni la ricchezza finanziaria delle famiglie americane si è moltiplicata, e questo si lega un po' al discorso delle best practices anglosassoni in questo caso. Che diversità tecnologica c'è nell'offerta? Quando guardiamo agli Stati Uniti e in parte anche al UK, quindi alla Gran Bretagna, quello che si vede è sempre un po' quale potrebbe essere, non quale sarà, quale potrebbe essere il nostro futuro. E questi dati sono abbastanza impressionanti, noi vediamo che la differenza sulla crescita della ricchezza degli italiani rispetto a quella degli americani, poi si possono prendere diversi time frame, questo qui è un time frame che va dal 16 al 22, però è notevole, si passa da un 18% a un 50% degli Stati Uniti. Questo è soltanto cultura finanziaria, non c'è altro, è soltanto che gli americani, fin da quando è nato il mercato dei capitali, i stock markets, investono in azioni e lo fanno da sempre. Questa è la differenza vera. Ci arriveremo a livello americano? Forse no, forse fra tantissimi anni, però ci fa vedere la strada, questa è la strada. L'ultima cosa, naturalmente hai un'impronta tecnologica forte, lo dice la tua storia, come dicevamo prima, di capo ingegnere rispetto alla formazione e alla crescita di Fineco. L'intelligenza artificiale, che strada può fare? Cioè ancora, ne parliamo da un anno, poi negli ultimi sei mesi siamo impazziti perché è immanente, è dappertutto e quindi bisogna parlarne ed è giusto parlarne. Però che cosa vedi in più? La mia impressione è che parlare di intelligenza artificiale appunto e poi non capire i salti tecnologici e avere delle piattaforme che sono arretrate significa mettere qualcosa di fichissimo su una macchina che ha il motore semirotto. Hai colto il punto al 100%. Prima bisogna sistemare piattaforme, poi in maniera tale che sappiano recepire l'intelligenza artificiale, poi l'intelligenza artificiale può essere una notevole spinta di aiuto al consulente per una miriade di cose. Però la cosa importante è che ormai io sento parlare, si parla dell'intelligenza artificiale come se tutto il resto ormai fosse sistemato. L'intelligenza artificiale è l'ultimo miglio, le 25 miglia precedenti devono essere corse e bene anche, altrimenti l'intelligenza artificiale non serve a nulla. Però perdonami, questo allora è anche un tema di cultura interna delle organizzazioni, no? Certo. La tecnologia non è che si può solamente spiegare, qua siamo tutti professori, siamo tutti dottori, però all'interno delle aziende bisogna anche far capire all'organigramma che cosa si può fare, come si può implementare. È un tema di cultura, di approccio, ovviamente se ci sei nato è più facile, se sei una banca tradizionale è più difficile, però come dire, ci si può arrivare nel tempo, chi più chi meno, però questo è il focus. L'intelligenza artificiale è un ottimo acceleratore che però deve andare su qualcosa che funziona e funziona molto bene, altrimenti è totalmente inutile. Ce n'è di strada da fare. Assolutamente. Paolo Di Grazia, vice direttore generale Fineco. Ciao Paolo.